salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui per un nuovo match sia parma benevento una partita secondo me alla nostra portata super importante per il mola il morale alto che abbiamo dopo il pareggio contro la juventus il parma anche il parma viene da una vittoria però il come dico io la palla è sempre tonda saremo a vedere chi la spunterà detto ciò purtroppo pesano le assenze di caldillo caldirola che sarà fuori per due mesi la rottura del menisco e anche maggio sarà fuori per un mese mancano ancora viola e iago falche che non sono stati convocati purtroppo da capire iago falche che fine farà ha fatto un match e mezzo e non si è visto più ma staremo a vedere detto ciò la squadra secondo me ci sa quindi chiunque entrerà farà il suo dovere almeno spero e godiamoci questo primo tempo speriamo di andare subito in gol e ci vediamo a fine primo tempo per le prime impressioni eccoci qua ragazzi fine primo tempo che cosa dire su questo primo tempo secondo me un ottimo primo tempo due squadre che si affrontano a viso aperto secondo me giochiamo molto molto meglio noi un parma in confusione che però comunque gli spazi in alcuni momenti li trovo un benevento che crea deve essere un po più incisivo secondo me in attacco però ci siamo stiamo facendo un buon gioco ora il secondo tempo dopo aver preso secondo me le misure il primo dobbiamo essere più concreti finalizzare buttare la palla dentro detto ciò un'ottima prestazione e temai sta dimostrando veramente il suo livello tecnico la sua importanza in questo gruppo secondo me immovibile inamovibile scusate e nulla staremo a vedere come andrà a finire comunque per il momento abbiamo un punto secondo me queste partite sono da fare tre punti per forza portare tre punti a casa saremo a vedere speriamo bene un bel evento che ci è piaciuto e forza essere i cani eccoci qua ragazzi partita finita termina il tutto sullo 0 a 0 quindi un pareggio portiamo comunque un punto a casa che ottimo una partita mio parere non interessante non non chissà che due squadre che si affrontano cercano di trovare lo spiraio per mettere la parte in rete però non ci riescono a a mia parere abbiamo giocato molto ma molto meglio rispetto al parma che ha avuto sì qualche occasione con gervinio ma siamo stati bravi ad evitare il gol e nulla secondo me a mio parere ragazzi al di là che abbiamo giocato bene la squadra c'è un qualcosina nel reparto offensivo ci vuole nel senso che la padula a mio parere boh ancora non è in forma non siamo incisivi in avanti in prota e caprari secondo me oggi hanno giocato di nuovo bene non capisco perché insigne lo cambia sempre caprari perché il giocatore ti può inventare la giocata però può essere che oggi forse stava un po sottotono e un insigne che purtroppo come il buon francesco ci dice è un ottimo giocatore da secondo tempo e si è visto anche quest'oggi purtroppo dal suo lato non abbiamo nessuno che può giocare in questo momento e nulla che cosa direte mai ragà penso che nella partita di oggi avete visto che è fondamentale io nita risponde bene per la prima volta ho rivisto un giocatore ottimo in campo e nulla portiamo un punto buono sì un punto comunque buono per la salvezza detto ciò fateci sapere nei commenti voi che ne pensate di questa partita e soprattutto di chi secondo voi ha giocato meglio o peggio quindi detto ciò un babbasone a tutti sosteneteci nel canale lasciando un bel like iscrivetevi al canale che è gratis per voi e noi ci fate un grande regalo un babbasone a tutti ragazzi e con la pioggia e con il vento sempre forza benevento